8.000 euro di risarcimento, a tanto ammonta la sanzione decisa dal giudice che un vicentino di 41 anni dovrà versare per ottenere la chiusura dell'indagine e il ritiro della querela presentata da un'amica. L'accusa era di violazione della privacy. Il 41enne infatti aveva postato in una chat di colleghi di lavoro la foto scattata al mare di una fidanzata di uno di loro. Lei era d'accordo nello scattare la foto ma non nel pubblicarla e così era scattata la querela. Grazie a tutti.